Gine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di 5 consigli e come al solito lo facciamo con le carte Keepers of the Light e oggi saranno 5 consigli per purificare lo spazio quindi dalle energie un po' pesanti, un po' negative comunque ti consiglio di leggere anche il mio articolo ho scritto proprio un articolo su come purificare gli spazi quindi con il suono, con gli incensi eccetera però vediamo soprattutto i saggi consigli e come al solito ti chiederò di scrivermi nei commenti qual è il consiglio del maestro che hai preferito, ti ha risuonato di più, ti è stato più utile in questo momento insomma quello che ti è piaciuto di più vediamo e iniziamo subito intanto iscriviti al canale di Youtube e regalaci un like primo consiglio ho saltata qualche carta? Sì, le prendo tutte e due allora allora, De Miriam, la sacra visione per purificare lo spazio dovete andare anche con il terzo occhio nel senso che dovete iniziare a vedere a percepire, a vedere se questo spazio necessita o meno di purificazione e se vedete che c'è ancora bisogno continuate ma se iniziate a percepire che è pulito allora va bene quindi per purificare lo spazio serve anche l'accensione, l'apertura del terzo occhio cioè una visione interiore per percepire le energie ne erano uscite due l'altra è Giovanna d'Arco la voce della verità quindi anche qui cercare innanzitutto di essere forti cioè quando siete in uno spazio e andate a purificare uno spazio negativo non vi dovete negativizzare voi dovete positivizzare lo spazio quindi leggetevi il mio articolo fatevi aiutare da qualche strumento che può essere il suono per esempio che è un grande elemento purificatore o può essere l'incenso determinati tipo il palo santo la salvia bianca eccetera perché? perché sono certa che quando entrate per esempio in una stanza dove hanno appena litigato voi sentite la tensione se entrate in una stanza invece in una casa serena eccetera percepite la bellezza del luogo ecco questo è il suono un po' la percezione della verità del luogo quindi per purificare un posto un luogo da determinati energie negative dovete imparare a vedere dove sono le energie negative così da andare perché molto spesso si fanno a caso queste cose io faccio un giro un giro anti-orario non so getto sale una volta ho visto anche gettare dello zucchero poi sono tipo arrivate le formiche quindi insomma utilizzate sempre ecco la seconda vista per farlo e allo stesso tempo percepite la vibrazione lavorate con la vibrazione quindi per esempio potete pulire con il suono se usate la campana tibetana se usate un qualunque strumento mi guardo intorno perché ce ne ho molti me li riporto sempre dai viaggi perché sono proprio degli strumenti per pulire vediamo un po' se lo trovo uno a portare ecco li sono andati a prendere questo per esempio può essere un buon suono ok oppure anche una maracas oppure un po' più scaccia robe vedete se avete le campane tibetane anche può andar bene insomma l'utilizzo del suono è molto indicato per andare poi a sentire il suono dell'equilibrio e della positività terza carta il terzo consiglio l'arcangelo Michele vabbè facile se non avete strumenti anche se io vi consiglio di usarlo il suono potete chiamare l'arcangelo Michele e chiedere di dare una bella pulita al luogo oppure come vi dicevo se rischiate di farvi avvolgere perché magari non è casa vostra andate a casa di qualcuno sentite la pesantezza potete tirar fuori il sonaglio iniziare a pulirgli casa vi prende per pazza forse potete chiamare l'arcangelo Michele quindi lo potete chiamare per scudarvi a voi quindi per farvi da scudo non farvi assorbire le energie negative del luogo oppure lo potete chiamare per purificare lo spazio in effetti è una tecnica molto bella quella della purificazione con l'arcangelo Michele ce ne sono milioni di miliardi potete affidarvi al vostro istinto basta che lo chiamate e gli chiedete come purificare il luogo potete usare una preghiera di purificazione oppure potete usare l'oracolo dell'arcangelo Michele che è pieno di vi metto il link sotto che è pieno di preghiere quindi potete usarne una per lo scudo oppure una per la purificazione scegliete voi oppure se avete altre tecniche fate pure oppure lasciate carta bianca a lui che sicuramente sa come fare quindi lasciatevi guidare quarto consiglio quarto e quinto oggi questo argomento piace vogliono uscire tanti prima carta allora Paolo il Veneziano sperimentare la grazia quindi scegliete per purificare dalle energie negative un qualcosa che poi porta grazia quindi le energie negative molto spesso stridono avete visto il lavoro di Masaru Emoto con i cristalli dell'acqua le parole belle che fanno dei cristalli bellissimi le parole brutte offensive fanno dei brutti cristalli ecco il principio è un po' lo stesso in una casa in uno spazio non una casa può essere il lavoro può essere dove vi pare se sentite queste energie brutte diciamo così e poi dovete andare a sentire invece energie armoniose ok e potete farlo in tanti modi in questo caso anche per esempio con l'incenso quindi scegliere un incenso come la salvia bianca o il palo santo incensi un po' strong per pulire finita la pulizia invece andate con un incenso più soft quindi la lavanda la rosa il loto per esempio incensi un po' meditativi un po' contemplativi che distendono la presenza nella sala e poi ultimo consiglio tadam ganesh allora qui per purificare lo spazio l'infinita abbondanza se sentite che lo spazio è proprio brutto 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 c'è un'energia brutta 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 usate tutti e quattro i metodi precedenti quindi con la visione guardate dove si annidano prevalentemente le energie negative perché magari è uno spazio è una casa non è inutile che la puliate tutta allo stesso modo magari c'è una stanza in particolare oppure di un luogo magari c'è un punto in particolare più pregno e vi concentrate su quello poi date una passata con l'incenso a tutto però vi concentrate su quello sentire usare il suono quindi utilizzare uno strumento che vi pare uno che ci avete a casa la campana tibetana quello che vi pare che qualunque cosa avete o se suonate uno strumento potete fare con la vostra musica poi chiamare l'arcangelo Michele che protegge voi e che poi proteggerà anche il luogo così che non si ristaurino energie negative usare l'incenso prima uno forte di pulizia e poi uno armonico per creare un bell'ambiente e fare tutto questo mix e vedrete che la vostra spazio sarà più che positivo allora spero che questi consigli ultra pratici questa volta però giustamente cioè poca teoria questa volta ma consigli pratici vi siano piaciuti scrivetemi nei commenti qual è stato il consiglio che hai preferito o di quale maestro e se il video ti è piaciuto regalaci un like e se non si è iscritto perché è in youtube vele legge la magia fallo subito ciao e al prossimo video